Arriva a Roma, a Palazzo Madama, all'itinerario della bellezza 2024, la guida ideata da Confcommercio Marche Nord, a fare gli onori di casa al senatore Antonio De Poli. In occasione di Pesaro Capitale Italiana della Cultura, questa iniziativa ci insegna che è essenziale fare squadra per una nuova strategia di promozione turistica a 360 gradi, che coinvolga le aziende e i territori. Un'edizione speciale è quella di quest'anno tra celebrazioni, new entry, debutti sul web e iniziative per incentivare i consumi. L'obiettivo è trasformare in destinazioni turistiche i comuni aderenti che difficilmente da soli riuscirebbero a farsi conoscere dal grande pubblico. Una formula di promozione ideata da Confcommercio Marche Nord, rivelatasi nel tempo assolutamente vincente e che quest'anno vede entrare nel circuito quattro nuove località, Acqualagna, Borgo Pace, Macerata Feltria, Carpegna e Monte Grimano Terme. La bellezza 2024, dal nord al sud della provincia, tocca così quota 25. Un progetto di promozione turistica creato da Confcommercio Marche Nord sette anni fa. Sette anni fa erano cinque i comuni della provincia che hanno affidato alla Confcommercio l'incarico della promozione turistica. In sette anni, grazie anche al tanto lavoro svolto, i comuni sono diventati 25. Esattamente la metà dei comuni della provincia di Peso Urbino in rete con Confcommercio. Questo già credo che sia un risultato straordinario. Quattro i comuni della costa, sono tutti quattro dentro il nostro progetto. E in più ci sono i borghi più belli della nostra provincia, le colline. Su ogni collina c'è un castello, una rocca, un teatro storico. E poi c'è Urbino, patrimonio dell'umanità per l'UNESCO. E con questo progetto, in Italia e all'estero, anche grazie ad una intensa campagna di comunicazione e di pubblicità sulle riviste nazionali e internazionali, vogliamo ipotizzare un nuovo modello di sviluppo economico del territorio basato sulla valorizzazione della bellezza.